novità in casa si crede è finalmente arrivato il coin pocket questo stratagemma che ci permette ovviamente è compatibile con qualsiasi wallet di casa si crede e finalmente ci consente di portare dietro le monetine del bisogno lo vediamo si tratta di un astucino un foglio sostanzialmente fatto dello stesso materiale del portabanconote contenuto all'interno di ogni wallet si crede e vedete tirando la linguetta posso finalmente introdurre oppure prendere le monetine che mi servono ovviamente può contenere anche piccole chiavi schedine sd insomma tutto quello che volete ovviamente di piccole dimensioni semplicemente va infilato dentro alla taschina interna in questo modo molto facile e quando vi servono le monetine non fate altro che aprire tirare la linguetta con il brand si crede prendere o introdurre le monetine che volete ed il gioco è fatto semplicemente geniale